Se hai bisogno di soldi, una giunta dell'Axo o completi modati non esitare a contattarmi Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen ragazzi Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS in descrizione trovate i gruppi anche per Playstation E adesso al nuovo video Bentornati raga, qua è Savix che vi parla Allora come potete vedere ragazzi location nuova Ciò vuol dire che Filippo ha creato una nuova gara E questa gara farà parte del Gran Premio ragazzi con la PR4 che faremo domenica pomeriggio ragazzi Quindi per iscriversi aprirò un gruppo Telegram ragazzi Metterò i numeri da 1 a 20 Voi se siete interessati mi iscrivete su Telegram in privato Vi assegnerò un numero Entrerete nel gruppo e così vi sarete iscritti ragazzi Mi raccomando solo serietà Perché se non c'è la serietà ragazzi non si può fare Perché questo è un Gran Premio dove andrà a vincere 50 milioni il primo Un set completo della base operativa ragazzi moddato Il secondo vincerà il set del Knight e due Caio ragazzi da 2 milioni e mezzo Quindi 5 milioni Mentre il terzo vincerà semplicemente il set del Knight e basta ragazzi Per tutti i partecipanti che arriveranno a fine gara Premio di consolazione regalerò la PR4 moddata con i cerchi camaleonte ragazzi Requisiti per partecipare a questo evento ragazzi Che vi ricordo saranno 50 giri Non bisogna avere il blocco vendite perché per raggiungere cash sull'account ragazzi Ho bisogno di fare dei magheci e ho bisogno che ci sia il blocco vendite non attivo Quindi se avete blocco vendite ragazzi non state neanche a partecipare Quindi affrettatevi State attenti mi raccomando a rispettare le regole che lascerò tutto in descrizione Nel gruppo di Telegram che lascerò qua sotto anche in descrizione su Youtube Io spero che i miei video vi piacciono raga Iscrivetevi vi lascerò tutto in descrizione E sbadabam raga Ci sentiamo domenica E al prossimo video Ciao Ciao